Marcus, posso chiederti come... Come funziona la bomba? Mio padre non te l'ha detto? No, voglio sapere che è successo a Dom. Prima usciamo vivi da qui. Ah, guardate questo posto. E io che credevo di conoscere Prescott, è rivoltante pensare che ha avuto questa stanza antipanico da un miliardo di dollari per tutti questi anni mentre noi morivamo di fame. Ma è rimasto sempre con noi, non capisco. Il professore crede che questa merda splendente ha infettato tutti? Tutti e tutto. L'emulsione è una forma di vita parassita. Maledizione. Il carburante miracoloso è vivo. Riuscirà a ucciderlo? Ehi, siamo venuti fino qui per il padre di Marcus. Cerca di avere fiducia, maledizione. Ehi, siamo venuti fino a qui. Ehi, siamo venuti fino a qui per la cena di stasera. Ammituolo piano terra, uova di guaglia in campo. Beh, perlomeno morirò sapendo che avevo ragione. Tu non morirai affatto, Bale. Nessuno di noi morirà. Tuo padre ha testato questa bomba, Marcus. Possiamo far tacere questo cazzo di rumore! Ok, fiducia. Sì, ricevuto. Papà, siamo qui! Dobbiamo solo superare questo scontro a fuoco. Vi sento, Marcus. Emira è sulle vostre tranche. Guardatevi le spade. Sì, da sempre a decalcaio. Aprendeci! Rianimami! Portato! Abbandaggio avvaluato, grazie. Rianimami! Abbandaggio avvaluato! Bambini! È libero! Rianimami! Azzivano! Rianimami! Grazie a tutti. 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 Scolpi in arrivo. Jack distruggi la porta mentre l'interno vada. Scolpi in arrivo. 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 Grazie a tutti. Quello era l'ultimo. Papà, stiamo salendo. Avanti, entrate e barricate le porte. Scusa, ma se ci siamo tutti beccati la nostra bella dose di emulsion, la bomba di tuo padre non avrà effetto anche su di noi? Credi che correrebbe il rischio? Funzionerà, non ti preoccupare. E fidati di me, capor Alebaird. L'ho testata io stesso. Blocate la porta, in fretta! Non fermerà uno Stalk, terrà solo impegnati i drag per qualche minuto. Dovrà andare bene. Papà, ci siamo. Gli splendenti sono dietro di noi. Dov'è il laboratorio? All'ultimo piano. Attento a Mira, Marcus. È in preda alla disperazione.